del ballo Rita Ballou, coreografa Suzanne, non lo so il cognome, ah no non è di Suzanne di ah di Alexandra, 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 coreografia di Alexandra, inedito, inedito, musica Rita Ballou, di, non lo sanno, quando siete pronti fate un signo, concorre per inedito, you are ready? ok musica 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 Grazie per la visione 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 Austria-Francia Grazie